Diego di Buonaventura viene riconfermato sindaco di Notaresco, una maggioranza schiacciante, una percentuale altissima, se l'aspettava sindaco? Ecco, credo che chi lavora, ecco il dato, io ero sereno stavolta perché penso di aver fatto più di quello che potevamo fare in un momento difficile per il nostro paese, per l'Italia, con tutti i problemi che abbiamo avuto come provincia di Teramo, ecco non abbiamo fatto tutto ma abbiamo fatto tanto e che i dati ci danno ragione, se i dati vengono confermati, sento ecco l'affetto della gente e la responsabilità per i prossimi cinque anni, che la gente si aspetta che facciamo quello che abbiamo fatto nei cinque anni passati e così sarà perché il mio impegno ogni volta che mi candido è come la prima volta, come è stato nel 2003. Sindaco, lei ha parlato durante la campagna elettorale anche della questione acqua, del ruzzo, lei è stato uno che è stato in prima linea quando Notaresco è stata messa in ginocchio dal maltempo, dalla neve e soprattutto è stato in prima linea per la tutela del territorio, il rispetto dell'ambiente contro il CIRSU. Sì è stata così, ecco l'ho detto mi sono occupato dei temi del mio paese che sono i 7 mila abitanti, ecco su CIRSU abbiamo vinto le battaglie che abbiamo vinto e giustamente un tema che occupa il mio territorio è l'acqua e credo che da domani con gli altri sindaci sull'acqua dobbiamo fare una riflessione seria perché la nostra società che è il ruzzo deve essere tutelata perché la regione e il ministero ci deve dire che cosa vuole fare dei problemi che abbiamo a quella montagna. Grazie Grazie Grazie